L'orientale è tutta un'altra tipologia sia di allenamento che di intensità e si crea anche un altro tipo di rapporto rispetto con i portieri però ho instaurato un bel rapporto con tutto il gruppo squadra Per la porchetta di Monte San Savino, oltre a una carne di ottima qualità del nostro territorio utilizziamo solo ed esclusivamente ingredienti scelti Per raccomandare di non svegliare i segreti Assolutamente, però facciamo vedere quelli che sono gli ingredienti naturali Finocchio in fiore della nostra valdichiana che non potete sentire il profumo ma lo degusterete all'interno della nostra porchetta Aglio in camicia fatto nel comune di Monte San Savino Sale marino e pepe macinato Questi sono solo gli ingredienti Mettiamo poi il fegato e la porchetta è pronta Il segreto non lo diciamo a nessuno Noi ogni volta che ne parliamo parliamo di Yassine come allenatore dei portieri Però te sei anche un allenatore dei ragazzini Sì, dell'Under 16 Collaboro con Lorenzo Tocci Ho intrapeso questa avventura due anni fa insieme a lui Ci stiamo divertendo Sta venendo un campionato dove i ragazzi si divertono E noi mister ci divertiamo con loro Ma come cambia? A livello personale, a livello mentale? A livello mentale è tutto un'altra tipologia Sia di allenamento che di intensità E si crea anche un altro tipo di rapporto rispetto con i portieri Però ho instaurato un bel rapporto con tutto il gruppo squadra E i ragazzi sono disposti a sacrificarsi per noi mister E noi per loro Quindi siamo contenti entrambi per il gruppo Per quello che stiamo facendo sia in campionato che in allenamento E siamo soddisfatti La passione ti porta, come dire, a fare l'allenatore dei portieri Ma ci può avere anche un seguito come allenatore dei ragazzi? Per quello vediamo in un futuro La strada che ho scelto, ovvero allenare i portieri È una strada molto lunga Ma sono dell'idea che chi nasce portiere muore portiere Quindi io nasco come portiere E adesso ho intrapeso questo percorso che intendo portare avanti Ci sarà tempo per decidere se continuare con i ragazzi o meno Ma attualmente porto avanti entrambe le mie passioni Grazie e buon lavoro Grazie e buona serata